Eccoli qua, primo incontro di famiglia, è la prima volta che si incontrano. Duda, Ciccico, che come sempre ci fa più fatti suoi, è lui che vuol far sentire subito la sua voce. Eccolo qua, eh? Questi primi giorni sono un po' durini per ambientarsi per lui, però mi sembra che sia abbastanza rilassato. Sta facendo di quelle dormitine, eh? Guardate che meraviglia. Quanto sei bello. Duda, non mangiargli la pappa. Duda, è la sua di pappa quella, è la sua di pappa, è la sua di pappa. Ciccico, vieni qui. Vieni qua anche te, Ciccico. Vieni qua anche te. Vieni qua anche te. Vi lasciamo che sono buona compagnia. Vi lasciamo giocare un po'. Vieni qua anche te. Grazie.